Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire cosa è successo, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Charlotte è la baby whale più ricca ed elegante del pianeta, sin da quando è venuta al mondo il 2 maggio 2015 nell'ala privata del St. Mary's Hospital di Paddington a Londra. Con un peso di 3 chili. Di tempo ne è passato esattamente 9 anni e ne sono successe di cose. In primis la neoplasia che ha colpito la mamma. Il principe William e Kate Merotten hanno pubblicato una nuova foto della principessa Charlotte in occasione del suo nono compleanno attraverso il loro account Twitter. Le hanno dedicato un bellissimo scatto con annessa di Dascalia che recita. Buon nono compleanno, principessa Charlotte. Grazie per tutti i gentili messaggi di oggi. La foto è stata scattata proprio da mamma Kate e mostra Charlotte sorridente appoggiata a una staccionata, vestita con una gonna di jeans, un top e un cardigan rosso con fiori di gelsomino accanto a lei. Nonostante sia alle prese col periodo più buio della sua vita, in cui si sta sottoponendo ai cicli di chemioterapia preventiva, Kate Merotten è determinata a guarire. Mettendo sempre i suoi tre figli George, Charlotte e Lewis al di sopra di tutto. Il principe William ha rivelato come sua figlia a casa fornisca ulteriori dettagli davvero sulla personalità della figlia, che è davvero una peperina. Non è un periodo facile, ma i figli sono in grado di regalare sorrisi e gioie sempre. Ti invitiamo a lasciare un commento per farci sapere la tua opinione e ricorda di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina, per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.